L'ultima possibile rivoluzione La libertà non è la libertà di scena, dice la libertà come quando finiscono le scelte, la grande vera libertà comincia quando le scelte fessi. Se non capiamo questo, secondo me è una cosa importantissima, non capiamo perdiamo, non viviamo coscientemente in quelle mille dimensioni nelle quali siamo forzionati di crescere, ma che per convenienza, per abitura, per stia e stia e stia e stia e stia e finiamo per le altre. La verità è che c'è il bene e il male e che non si possono, in fondo, delle bellezza. Dobbiamo essere d'accordo che la libertà è qualcosa che ognuno si deve conquistare, come la vetta di una montagna. Soltanto se tu la scali questa montagna e arrivi in cima, allora godi in questa tua conquista. Indifferenza è la più grande malattia del nostro tempo, questo cinismo con cui siamo abituati a crescere, ma non dobbiamo darcele tutta la colpa, è il sistema che ci porta a confronto. Tu capisci, ti devi alzare alle sette, sono alla sveglia, devi prendere il caffè di corsa, Alle otto ti aspetta l'autobus, alle nove devi dimostrare il cartellino, poi devi uscire da prendere il bambino e riportarlo a casa, tornare poi a fare la spesa, tornare in ufficio, devi metterla a pasta a cuocere, e la sera guardate il telegiornale sei morto.